Come state intanto? Vi state godendo la serata? Ci stiamo divertendo, fatemelo sentire con un applauso Che meraviglia Vedi che pubblico, ballo caldo Allora dai, andiamo Abbiamo un brano Un brano con un balletto Un balletto? Ma allora, eccomi, sono pronto Ballerino Ma danza classica? No Fermami Basta Quando si dice balletto io subito mi scadillo Lo so, lo so, perché te balli? Io come no, ormai io d'acqua del bigonzo Infatti, giusto Senti, l'artista in questione è Rihanna La conoscete? La conoscete tutti voi? Rihanna te la conosci? Come no, è vicina di casa mia Si chiama Rihanna E non è lei? Il brano è Russian Roulette Ok Eccola qui La nostra Ilaria Frizza A voi Eccola qui Eccola qui La nostra Ilaria Frizza 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ilaria Frezza Allora dovete sapere che tra l'altro questo pezzo è fatto da una ragazza del primo, una ragazza del quinto e una ragazza del quarto quindi non è facile mettere insieme queste forze in campo anche perché poi ognuno ha le proprie lezioni quindi si sono in qualche modo dovute accorpare proprio per costruire il pezzo sia cantato che ballato Grazie Grazie ragazze Grazie a tutti